Furto e danneggiamenti nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 gennaio all'automotive Luxury Point di Foligno in località Santeraclio dove i ladri hanno portato via un'automobile dal valore di circa 43.000 euro e danneggiato alcune altre poste all'interno della concessionaria plurimarche specializzata nel commercio di veicoli top di gamma nuovi e usati di prestigiosi marchi nazionali ed internazionali. I sistemi di sicurezza si sono attivati segnalandone primo tentato furto poco dopo la mezzanotte in seguito al quale sono giunti sul posto gli uomini della vigilanza privata constatando i danni alla struttura e alle auto e ripristinando il sistema. Questo però non ha scoraggiati i malviventi che sono tornati una seconda volta intorno alle 5 e hanno messo a segno il colpo, riuscendo questa volta a sfondare definitivamente il cancello di ingresso e portare via l'auto. Sul posto sono stati rinvenuti anche altri due mezzi estranei alla concessionaria, risultati poi rubati e probabilmente usati dai ladri per i loro spostamenti. Non sono ancora chiare le dinamiche esatte dell'accaduto e il numero dei componenti di quella che si ipotizza possa essere una banda specializzata. Le indagini sono state affidate alla compagnia dei carabinieri di Foligno.